Il ginocchio è quell'articolazione presente appunto fra femore tibia e rotola. Artrosi è quel termine che noi ortopedici usiamo per dire che c'è un'usura della parte cartilaginia e dell'osso del menisco. Nell'artrosi il paziente a noi ortopedici va a riferire diversi quadri clinici come il dolore, il fatto che l'articolazione può essere calda, gonfia, ci può essere il deficit nella marcia. Un'artrosi prevede diverse cure a seconda di che grado è. Ovviamente nei gradi bassi ci possono essere utili tutte quante le cure mediche e ovviamente il discorso di andare a prevenire un'usura peggiorativa. Prevenire che significa? Andare ovviamente a perdere peso, evitare tutte quante quelle attività sotto peso come possono essere ad esempio la corsa e il potenziamento ovviamente più muscolomette e più quella articolazione è protetta. Nell'artrosi invece di grado alto, quindi grave, ovviamente potrebbero esserci utili tutte quante invece quelle tecniche ortopediche e chirurgiche come ad esempio una protesi, cioè andare a sostituire quella articolazione ormai usurata.